Grandi manovre in municipio a Merano dopo l'ultimatum del primo cittadino Paolo Roche all'SVP in merito alla possibile formazione di giunta. Per questo motivo le parti si sono incontrate stamani per discutere la proposta fatta dal neosindaco ai rappresentanti della Stella Alpina. La nostra proposta già dall'inizio era che vogliamo essere presenti in giunta, che dovrebbero essere presenti in giunta tutti i nostri partner come l'Alleanza per Merano e il Partito Democratico. E' rimasto sempre la nostra richiesta e su quello abbiamo discusso anche all'inizio e poi si parlava anche di altri ruoli e sulle competenze, però lì penso che si troverà in accordo. Naturalmente l'appuntamento si è rivelato ideale anche per comprendere il programma del sindaco di Merano. Per quanto riguarda i contenuti siamo ben d'accordo, adesso sono ancora, per quanto riguarda le persone, tutte queste cosette che adesso ci sono da chiarire, ma noi abbiamo definito chiaramente ciò che vogliamo noi adesso. Secondo me non dovrebbe essere più niente, ecco, dovrebbe funzionare.